Dove devo vedere anch'io? Sì sì ma adesso ti faccio vedere Allora ragazzi adesso vi spiego Devo fare una piccola Introduzione prima di mostrarvi questo video Allora voi Dovete sapere che io ovviamente Da bravo palestrato e su Instagram Mi escono sempre un sacco di reel Su gente palestrata Che si allena, atleti Diete, queste cose qua ok Molto bene E tra queste cose Mi è uscito anche Questo soggetto Adesso No aspetta adesso Mauritico video su Discord Guarda Discord Allora Eccomi Allora È meglio di quello che sembra Io non so come mi è uscito Letteralmente mi sono uscite delle clip Mi sono spogliato tutto il profilo di questo E ho vissuto che è pieno di roba sua così È un signore di buona sessantina d'anni suppongo Che a quanto pare ha un sacco di Guinness World Record Per Per robe strane Qua sta sollevando 41 chili e mezzo Con l'alluce E ha fatto Guinness World Record Che vuoi fa? Non so mi fa molto ridere Porco Che male Ok È impressionante Non so perché mi fa così ridere Però Cioè è bellissimo Il suo profilo È tutto così Fa un sacco E questo scusa Quello lì tutto storto? Ok Questa è la cosa più normale che fa Ma no È casatissimo Sì sì No ma a me fa spaccare Cioè E qua non sappiamo cosa sta facendo Perché non c'è la descrizione Ma potrebbe essere un altro dito sai Non si vede bene Potrebbe essere Non è che lo sforzo guarda No infatti Clueless proprio È incredibile È come quando Junior Per dire all'italiana Si tira via la giacca e flex Ah è vero è vero Minchia E niente Però mi fanno un sacco spaccare Sì Con l'audio Che casino Vabbè Ma è bello perché Ah può sembrare un meme Ma lui ha veramente un sacco di Guinness World Record Ah è fortissimo Non so Porco A parte La qualità delle ripetizioni che Lascia un po' desiderare Però Ah è maestoso tra l'altro Sì Ah io l'ho beccato per questa Per questa clip qua Che casino Le motore di avviamento Sì Questo è il rematore Per quando C'è il motorino Del tuo serba Ingolfato No E quindi devi Devi farlo partire Una locomotiva E lui c'ha tutti E vedi c'ha Guinness World Record The longest static hold on parallel balls Carrying Cento libri In cinque minuti Tre secondi Cioè vedi Tutte ste robe strane qua Guarda quanti C'è un altro sotto Sì sì Ma ne ha Cioè avevo trovato una foto In cui ne aveva mille Però fa ridere che C'ha tutti sti Sti video dove Con le dita Solleva Un sacco di pesi Con le dita Non si sa Lui si allena E qua ti eravamo sotto E tu lo killi Adesso è a 43 Madonna No no 43 era vecchio Di tre anni fa Ma secondo me qua sto usando altre dita Vedi Non è l'alluce È un dito più debole C'è scritto Allora sarà un riscaldamento Che ti devo dire Guarda Cin Quella madonna Cinquanta guinness world record Ragazzi C'ha sto tizio E 22 da provare Ma cosa sta facendo Ma non lo so Collezionando È bellissimo C'ha mille C'ha mille followers Sto tizio Sui video non gli fanno un cazzo di views Ma è Cioè Questo Questo è un È un maestro Ma il maestro tipo Il maestro Genio delle tartarughe Ma è un maestro muten Questo Vabbè Cioè le esecuzioni Sono quelle che sono Però Cioè È un eroe È un eroe Questo qua Parallelle profonde 8 ripetizioni Con 11 chili Massimo Ma guarda Che non è così facile Fa sta roba C'è pure zavorrato Io non ci riesco mica Pure zavorrato Però le cose più belle Questo Cos'è qui 10 trazioni Trazioni Con i mignoli Mauri Con i mignoli Con i mignoli Ragazzi Ha le mani che ti sfondano Se ti toccano Questo c'ha delle dita Fortissime Incredibile Pensate la resistenza Che ha Sulle dita Questo tizio Se deve suonare un pianoforte Sfonda le Le chiavi Finchia davvero Qua con che dita è Con il Eh beh Col medio 102 chili Ma io vorrei capire Il Ah Vedi C'ha il peso Per rimanere ancorato Per rimanere ancorato Sono giustamente 100 chili Vola via Ma è fortissimo Stai per scrivere Gli insulti sulle lighe È fortissimo Di quella tastiera Porca misera Che forte Sicuro è fortissimo Che forte Bellissimo C'ha Un miliardo di video Veramente Un dito Mauri Un Un dito Medio 62 chili Su un dito Però C'è La cosa bella Non commenti Nel 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 video No Zero No 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 ma È questa La roba Ok partito Partito Vai vai Questo è facile Io addirittura Avevo visto Delle clip Perché me le sono sfogliate Solo che come capisce È difficile Sono difficile da ritrovare Dove tipo Sollevava 60 chili Con il dito Con l'alluce Aspetta Fammi dire Dovrei avere Altra roba salvata Di lui Ma arriva di bambini Ragazzi Diamo spazio Anche le vecchie generazioni Lui spinge Ragazzi Altro che bambini Altro che bambini Guardiamo Ecco 47 chili Mauri Che male Infatti Guarda il piede È tutto piegato Che boffa Come fanno Ad avere ancora Le dita Più che altro Lo so You are crazy Crazy people Will rule the world One day Madonna Incredibile Fammi vedere È abbastante 52 chili Sì sì Ma io me li avrei salvati Beh è fenomenale Poi gli si stacca La cordicella Dall'alluce Poverino L'ho lanzato L'ho lanzato L'ho lanzato Vabbè I suoi versi Mi fanno spaccare Mauri Siamo Un sacco salvati Il Kaioken Qua 38 chili Sono una cazzata Questo qua è il miso Di tutto Sì Fammi vedere Cos'altro Mi sono salvato Col mignolo 17 chili Mamma Mi è male solo Pensarci È un E poi c'è anche L'equilibrio Certo 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 Mi sei la pizza Assolutamente no Ah poi Mauri C'è Ci sono anche altre Bellissime cose Tipo questa Oddio Oddio Quale data medie Sì 260 chili Maury Non mettere pausa Vai avanti Allora chat Non so se vi rendete conto 260 chili Con le dita medie Ma poi vabbè In una posizione Che non riesco a capire Ma non importa Allora la sua strategia È tipo Lo stacco dal cielo Anziché lo stacco da terra Questo Cioè Vai devastante Il fatto che Si è riuscito A sollevarlo Anche di tipo Mezzo centimetro 260 Un soffietto Bastava È incredibile Con le dita medie Corrotto dice Quando lui sbatte Il mignolo nel comodino È il comodino Che bestemmia Mamma mia Il comodino Si rompe Si rompe Vediamo cos'altro Un caffè Il cazzo da pugno al tavolo esplode Merda Davvero Questo è Sollevamento 111 kg Con dito medio Mauri Uno solo Uno solo Gancio Perché è alta Usatura una sofferenza qua dentro di me il suo ultimo post a quando risale ma penso ne faccia di continuo ah sta bene ok l'esistenza 31,5 guine 31,5 guine semplice sollevamento 35 secondi mi piace che dice semplice ma una cazzata per lui i versi del goblin cazzo c'è uno tipo 60 kg me lo sono per ah eccolo l'ho trovato mauri eccolo qua prova ufficiale guine's world record sollevamento a luce 61 kg eccolo mauri stong ma l'ha fatto? si si l'ha fatto c'è gente che non riesce a fare con la panca piana 60 kg eh io probabilmente lo ce l'ho fatto spettacolo ragazzi che spettacolo va bene quindi è super aggiornato si si niente ci tenevo a mostrare questo perché mi escono un sacco di come ho già detto di video sulla palestra di allenamenti e lui diciamo è quello un po' più particolare che ho beccato con tutti gli guine's world record e tutti questi esercizi strani che fa poi va a periodi c'ha periodi in cui fa soltanto parallele periodi in cui fa soltanto dita del piede mi piace che alcune immagini siano al contrario assolutamente a caso cos'è questo? col dito meglio ah col dito ma pensa che ma pensa che dita pensa che forti sono le dita di sto tizio vorrei vedere il dito il muscolo del dito questo esercizio non capisco bene cosa sia però sta allenando le dita medie penso non so no no usa tutta la mano ah è normale ok vabbè niente ragazzi fine fine della parentesi era molto interessante vedere è un eroe questo soggetto molto bene maori possiamo andare con lo nostro sport adesso certo allora iniziamo con lo sport di massimale postazioni iniziamo con la mia postazione ciao a tutti faccio vedere la mia postazione e vi farò vedere ogni periferica e vi spiegherò come dire le loro particolarità in un minuto iniziamo subito questo è il fondo delicato cos'è ma ci ha attaccato lo scotch eh io penso di sapere perché se ti ricordi è tipo consumato fortnite era il top del top perché adesso ormai sta un po' decadendo per quanto riguarda ok il trend se non sbaglio questo qui è per fare quello che chiamano drag click ok mi correggeranno in caso in chat cioè in teoria è quella tecnica per cui grattando il dito sul tipo l'indice sopra il tasto eh invece ah non era per minecraft scusate è vero per picchiare più rapidamente su minecraft ok per le hardcore e quando fai il click invece di fare solo un click fai l'escrizione fa tipo un tu che gratti e ingrattiando sbatte più volte sul tasto lo switch sotto e premete tante volte ok sono malati sono malati semplicemente e immagino che non lo facciano con le macro perché tipo c'hai le anti cheat che li back probabilmente si vabbè così la skill lo fai tu ah beh giusto non usi spicy ah giustamente skillato è vero è vero dicono che comunque se lo usi il server ti abandono perché giustamente non serve a niente è lo rosile macro pulsa detto questo passiamo subito al mio magnifico tappetino da poco arrivato il super glide si dimostra molto molto scorrevo super ah non è supremo no no è super la mia tastiera è un Apex Pro di KL del 2023 poggia polsi magnetico magnifico e anche la tastiera iperattiva il mio monitor è iperattiva la tastiera non sta mai ferma cliccami 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 165 Hz 0.5 ms di ritardo mentre invece il mio secondario è un monitor HP di molti anni fa e quello c'ha tanto ritardo invece eh si e uso degli auricolari JBL se siete interessati a un video sulle specifiche del mio computer scrivetemelo nei commenti che lo farò senza problemi siamo interessati ci vediamo ah noi forse lo vedremo che dissipatore strano ce l'ho anch'io lo stesso ah ok molto bello e raffredda tanto powery drippa eh si va bene breve ma intenso prossimo video farei vedere subito questo che è quello che tu mi hai inviato settimana scorsa in realtà che era un potenziale ok ciao raga benvenuti in questo nuovo ah si il gameboy questo video ragazzi si chiama il gameboy di Ronino Brick Ronino Brick ci siamo in un video speciale speciale su un dispositivo 14 minuti vabbè si schifo non è manco del 2000 non è manco neanche del 90 è dell'89 volevo fare questo veloce veloce tre storie visto che il 2 dicembre non ho portato più il video del dispositivo storico il dispositivo storico il museo la pre storia veramente recuperarlo dopo troppo tempo non riuscivo più a rintracciare il pacco quindi ma la madonna è un reperto archeologico ha fatto il carbonio 14 ipad prima generazione ma a parte questo ragazzi eh ma non è lui vediamo cioè lui è tipo anche il 2000 ma il gameboy color dai non è che il gameboy non è non sto scherzando bene non è tarocco meno male però non ho più neanche il coperchio eh no per provarlo questa cartuccia non so cos'è si può recuperare Spider-Man Spider-Man e giustamente c'è anche dietro e c'è la dietro si è un fan non ci credo che bello funziona ancora dopo l'era di Cristo mamma è proprio vera era paleolitica quando non ho scoperto la liga ma si mette prima il gioco devi spegnere e riaccenderlo sta cercando di capire questa tecnologia incredibile ragazzi vai aggiungiamo la cartuccia questa la voglio provare alla fine vedremo cos'è aggiungiamo la cartuccia Nintendo no non sa che devi soffiare ah meno male oh la no non me la legge ma devi soffiare di più ma soffia anche nel Game Boy nella legge eccola la letta la letta eh sì ci siamo è un geroglifico non capisco no non ci credo non ci credo si accende ancora che bello non ci credo non ci credo è un po' come quando trovi tipo un fossile nelle rocce no lo spolveri con il con il pozzolino e niente è un Game Boy funziona si sta iniziando voglio fare la battaglia iniziale e poi proveremo sto gioco che non so cos'è vabbè facciano cadere un po' avanti il Game Boy si sta glicendo tutto è morto stai glicendo tutto 1990 che strano madonna mia un po' dopo il Game Boy Color no ragazzi bug ha la cartuccia quindi ragazzi preferisco non usarla Nintendo 3DS mi PlayStation 4 cosa 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 stavo dicendo aspetta troviamo indietro va bene va bene andate se vi interessa Nintendo 3DS mi ah no non ci interessa mauri e tutte certe eccetera ma io allo speciale vi porterò un dispositivo che mi ha fatto la mia infanzia sì vi porterò questo cioè tre anni fa molto carino niente partiamo al seconda cartuccia tengo Pokemon tengo Pokemon guarda che sopra cos'era è ma l'altra quella finale ancora Pokemon trattalo bene ma questa me la legge sicuro la che ho controllato non è no non me la eh ah me l'ha letta deve caricare è il BIOS quello mauri ma c'è fretta c'è fretta quando tu apri tiktok ti esce subito il tiktok capito c'è si mette ne più da sentersi la switch del Nintendo che vuoi spero non sentite una ciù vabbè che ha detto non lo so però non è vero perché la switch sta in stand by bello bello è ancora al menu hanno fatto nuova partita e poi l'ultimo che mi piace oh finalmente scopriamo qual è mauri quindi gioco senza etichetta questo qua ma che cazzo è quella farla ma gocci di pokemon vabbè 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 ma raga questo voglio andare a smontare come a smontare cosa ci sarà no non farlo alla fine del video voglio vedere cosa c'è lì la voglio vedere accendi la legge ok non me lo legge come non so no no ci ha fatto poco vai vai raga no no non lo legge raga non va non va non va ecco questo forse è carico ok vai 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 raga ah me la legge yes la legge raga che canti ciò che è è super mario ah super mario land quindi madomi si stava per cadere il gameboy 1997 no non mi ricordo che tarai 87 o 97 vabbè alla nostra età niente era era boh interessante ed era un po' io ho trovato il gameboy ma poi mi pareva che il suo canale c'esse qualcosa di interessante fammelo aprire un attimo controlliamo grazie transatlantico parla grazie mille il sub lei ha detto gentile grazie mille intendo di ens di entro di s live e giri via aspetta ma fa delle cazzo hai scritto oh no maury oh no cosa succede è uno di quelli che fa queste cose qua a 13 anni ok dimmi cosa fa è un trapper maury sentiamolo ma non si sente un cazzo la base è altissima sono tornato mi sono tornato me lo blocco senti ma che cosa parli hai due tagli vuoi fare il film ma non vedo i fatti mi sa che siete più fatti è bellissima almeno l'ora non potestate voi ah è fit antonio 204 sis l'ilkri è il nome da strada maury eh si è il nome da lo street name lo street name l'ilkri vabbè tutto molto bello però non ho sentito niente purtroppo cioè non capisco che parole di gaza si ah e poi c'è addio tonio 777 walter eh quello si lo ricordo non l'ho visto ho solo visto il titolo ok va messo ragazzi ciao a tutti benvenuti nell'ultimo video di tonio 777 walter non è l'ultimo non è cioè l'ultimo video con il nome che tengo ah cambia nome ah lui era tonio 777 walter ah era lui retro gaming era lui tonio 666 mi piace molto farò retro gaming che è l'unica cosa che ha fatto è giocare a game boy è retro gaming vero però Nintendo PlayStation Xbox eccetera eccetera ah ma il suo retro gaming è il game boy DS Lite e 2DS oh per lui effettivamente sì ormai saranno retro gaming tutti quanti questi il 2DS forse non è ancora tu devi pensare una cosa ma ora il game boy c'ha più del doppio della sua età no no beh il game boy assolutamente ma è retro anche per noi sì il game boy è ufficialmente retro gaming sì il 2DS DS Lite no non particolarmente ho 13 anni io l'ho conosciuta già a 5 anni e ha iniziato già mi era piaciuto sto retro gaming ha scoperto a 5 anni retro gaming maori e ora ne ha 13 è un esperto di retro gaming eh niente forse forse riparazioni delle riparazioni eh delle robe del canale delle robe del canale riparazioni delle robe del canale e anche saldatore sì sì falegname artigiano carpentiere eh tutto fare e mo ci sarà un nuovo nome il nome è Tonino Brick non so se ci sarò ma credo di no niente ragazzi da Tonino è tutto ci vediamo ciao ragazzi è un muratore forse ambisce a diventare muratore io ho fatto il muratore nella mia vita grazie federico 23 per il sub lo sto facendo guardando bambini grazie clone blu per il sub bentornato anche te evviva e vabbè prossimo prossimo video maori la mia nuova postazione da gaming setup gaming 2024 oh fresco in pratica la descrizione inizia con bella frate tanto non so il suo fratello si deve calmare in che senso inizia cioè inizio la descrizione inizia con bella frate mi chiamo Marco in arte non spoiler il nome sono qui per creare una nuova community tu ci starai scopriamolo per i social va bene va in live e bella ragazzi qua Elfine benvenuti in questo nuovissimo video oggi intro pure Elfine ci urla tanto pronuncia sto rum Elfine xvii Elfine diciottesimo ok il telefono c'è pazzesco signori come avete letto dal titolo oggi cambieremo la mia magica postazione da gaming questa qua quanti quadri c'ha guarda quanto è pazzesco ci so che non è un bambino ragazzi non importa oggi andremo a cambiare scrivania sistemare cose farla figa le cose prima di passare alla continua del video cane duppo napoletano allora intanto non è napoletano ma è barese non è napoletano infatti iscrivervi che è gratis cioè raga è l'80 guarda il mio video non è iscritto è un pezzo di merda cioè guarda guarda siamo pure il mio siamo tutti dei pezzi di merda no aspetta che mi iscrivo iscriviamoci subito minchia riso patate e cozze segno qua quindi iscriviti mannaggia la miseria quindi detto ciò signori non cambio la postazione saranno o era l'anno scorso o due no due anni fa due a ma cioè raga io questa postazione ce l'ho così da due anni due anni cioè tu devi tu devi cambiare stanza di tu meglio è perché non siamo iscritti mauri siamo dei pezzi di merda comunque niente cioè lui è due anni che non la cambia incredibile io l'ho cambiato un anno e mezzo fa solo perché mi sono trasferito la casa intera sì ho cambiato la casa intera ogni anno devi cambiarla Rick va bene compro un'altra due cioè avete capito sono due anni quanti mauri quanti sono due scusami la foto cos'è questa foto due è il diciottesimo di quella puttana io la mia brazza qua cioè pazzeschi mamma mia non si quante cazzo di foto ci sono quante foto madonna cioè per me questo è un altro terron check ma chi cazzo tiene tutte ste foto ma poi è attaccato a che ti serve lo specchio se ci tieni le foto attaccate lo vedi però sì vagamente sì la funzionalità c'è ancora non si può baby elfin a me ero bellissimo dai l'ammetto ero bellissimo quindi raga vi faccio un timelapse faccio la carta da parlare sul tavolo cioè raga cioè pazzesco che poi guardano vai lì vi faccio pure la chicca per youtube piccola solo per voi di youtube raga ho cambiato il carcio con rufi qui ciao rufi e nient'altro ah sì ragazzo sarebba sta qua con il tollero dal concerto money gang più un più un disegno più le monster sono tornate porca miseria vi ho fatto vedere com'è ora la mia magica postazione quindi raga io direi di avviare il timelapse ancora è l'ora di attivare il timelapse e svuotarla tutta cioè togliere tutto porca putera proviamoci diamoci diamoci da fare iniziamo con questa a levare questa dagliere raga qui da cale lupo vabbè scusate ho capito buongiorno a tutti nuovo giorno però stiamo sempre nella stessa situazione ma quanto dura sto video 8 minuti minchia l'altarino per una persona che è venuta a mancare suppongo questa 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 cosa qui che è pesantissima è pesantissima sta cosa mannaggia la miseria sta cosa è pesantissima portiamo in camera mannaggia la miseria e poi iniziamo ad aprirla let's go mannaggia siccome era troppo difficile montarlo in camera perché c'era mancanza di spazio che è quello? montato per farla direttamente qua è il muratore è il muratore è anche più semplice abbiamo fatto la struttura così in camera poi facevamo tutto il resto infatti dopo tanti vaffanculo abbiamo quasi finita e l'abbiamo portata direttamente abbiamo portato abbiamo fatto quasi tutto però ci vediamo direttamente a lavoro fatto se non ci mettiamo due anni e mezzo vediamo un po' oh ok abbiamo mi fa ridere penso al canelupo di bare comunque manca canelupo barese su GTA 6 e sistemarlo computer ora dobbiamo spostare questo si dobbiamo spostare tutto questo qua mannaggia allora boys è successo un chi te è morto un grandissimo che ci blocca completamente la postazione quindi questo video invece di uscire lunedì uscirà o martedì o mercoledì no è chi te è morto chi te è morto questo qua che guardate lì è capito di cioè si è fatto si è fatto male si è fatto tutto questo piano a terra di schermo bene cioè ha toccato appena 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 ha toccato la scrivania è caduto di faccia e tu dici stava alla punta il finocchio che cazzo è normale no frate stava qua stava qua al centro ottimo cosa che non va secondo me che casino per evitare grandissime rotture di palle anche abbiamo deciso di andare a recuperare da amazon questo supporto che è il braccio che mi prende sia quello che l'altro monitor ok che casino per spiegare che è cascato il monitor tutto per dire questo sì però il video lo farà uscire uscirà un fortnite molto probabile uscirà un fortnite il finore 1000x quindi signori non mettere solo tutto a posto però ci vediamo domani cioè domani per voi pochi secondi a me passerà un giorno il tempo che arriva e ne è già miseria buongiorno sono passati tipo due giorni la situazione il braccio è arrivato è arrivato stanno aumentando le cose sul tuo tavolo in quella stanza ma così c'è che è fan di one piece i video non stanno scelando sì perché sto in questa situazione sto aspettando perché abbiamo comprato un altro momento 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 grazie sono 20 anni che non vedevo questo clip da 24 che sta qui dentro qua dentro proprio qui e niente poi il piano siccome sono stato fermo un po' vabbè andiamo avanti dai questo ci racconta vita morte miracoli dai facci vedere ha messo una ciabatta ha già attaccato ha già attaccato presa 3 vicino alla green light con tutto il passaggio con ciabatta principale allora sapete ci sono video che sembrano lunghi anche se non sono lunghissimi questo dura 8 minuti questo è uno di quelli ok però sembra nei duri 80 perché ci sta riempiendo di informazioni totalmente inutili e quindi sembra più lungo di quello che è però un'informazione che ho notato che forse non è notata che hai detto per due volte di fila durante il video green light invece di ring light ah no non ci ho fatto a casa green light e convito se li chiami luce verde ah tutto il mondo da qua tutto da qui che bellezza ha messo anche la ps5 e il pc pensa se facciamo il contrario che cosa faccia oddio abbiamo cosa succedeva se metteva il contrario saltava in aria cioè guarda che precisione tecnologie avanzate al servizio oh vai mettici tutta la tutta la messa bene non so tutta 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 hardware hardware quelle cose questa è di alta ingegneria pazzesco che non tocca nessuno tocca a terra c'è di un minuto soltanto per elogiare per elogiare un cavo capito qua succederà una bomba poi si faranno più tipo bomba no no ecco moment later ma che cazzo come è riuscito a fare un casino con tre figli ti devo dire ti devo dire ti devo dire sta piazzato io tu dici bianco ma perché bianco frate frate calma respira respira no non diciamo niente ma non l'ho detto respira di più respira respira è uscita pazzesca signori e signori siamo viola come vedete sto tutto viola è la lin perché voglio fare anzi 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 chiudo la porta perché signori perché ha chiuso la porta la postazione è uscita non era facile la mia postazione a parte il bordello che sta di là signori la mia postazione da gaming eccolo la green light ovviamente che casino sparato eccola qua piazzata con la mia ragazza dietro salutiamo saluta per il video ciao ecco la mia postazione tutta sistemata per le stream quindi signori non c'è altro da dire vi aspetto in live oggi nove e mezza qui in live sul canale viola e tiktok let's go ci vediamo così sto a significare questa esultanza let's go vabbè direi di andare al prossimo video ma mi è percepiti proprio 40 minuti percepiti questo sono già domenica della settimana prossima ecco la mia postazione da gaming tutta in caps con la faccina che non è semplice due punti parentesi due punti trattino parentesi quindi quella completa col naso pure ci ho messo pure il naso una faccina c'è il nasino vai ragazzi vecchiette venditori di patate eccoci qua nel suo video cos'è che ha detto scusa ho parlato che bello sì ragazzi vecchiette venditori di patate eccoci qua nel suo video ragazzi vecchiette ragazzi vecchiette e venditori di patate beh ti dirò originale come in deduzione ok non lo so però ti dico è l'unico che in descrizione ha messo veramente tutto a parte che ha scritto social poi ha scritto instagram senza l'n instagram ok twitch scritto twitch tiktok e memazica che non so cosa sia sono vecchio vabbè però non è quello che volevo dire scrive tutto scrive programmi che usa componenti pc sì vabbè musica utilizzata nel video cosa che rarissimo vedere e poi saluti semplicemente se ti vuoi iscrivere bene io buone grazie a chi mi ricordo di mettere il mio merch in descrizione shoppate il merch raga ufficiale poi venite in fiera a farlo autografare ma ci voleva Mauri in intanto sì sì no assolutamente vabbè comunque se siete venditori di patate vi ha salutato quindi ricambiate il saluto grazie io sono Pier Fullart e oggi faccio il tour che be- chi è? ha Pier Fullart Pier Fullart la mia tastiera cos'è come la chiamata? la mia tastiera un po' più alte ho capito io ho capito male è bello qua abbiamo la mia tastiera la tastiera mi piace un sacco meccanica è meccanica mauri è comodo room room c'è il motore mouse è comodo poi cosa abbiamo cosa abbiamo ah il tappetito mouse è comodo perché ha la forma della mano pensa che geni che sono stati pensa a quella volta che l'hanno inventato quanto avanti erano e non vabbè niente di che questi qua che li uso sempre mi piace un sacco cosa? le casse qua vediamo la telecamera no non li uso per le casse li uso per le luci ah sono lampadine tipo nooo i fogli per copiare inglese cosa? dietro il fu nooo dai no per non forse dall'fbi ma questi qua sono letta dall'fbi quello che succede quando scoprono che copia inglese esatto quanto dura tutta la clip tutta 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 pure lui che copia inglese pure lui poi abbiamo vero schermo che è un accademia tutto il film ci ha fatto vedere dice così e infatti se avete notato è anche curvo infatti potete vedere è curvi wow il pc il pc il pc quantità subscribe qua abbiamo delle chiavette scheda grafica poi ci abbiamo la rata mette a fuoco scusate il cavo dell'alimentatore mette a fuoco poi è là abbiamo la rata che lievitatore è? là sotto non capisco ovviamente c'è la ventola se no andrebbe tutto a fuoco scheda grafica insomma che ho già letto è una nvidia gtx 1080pi ti 1080 ma in descrizione ho messo che è una 3070 60 60 scusa però non lo è oh ma 1080 non lo so non capisco comunque secondo me questo pc è uno di quelli che ti fanno fare o di quelli che prendi su amazon che hanno l'alimentatore che esplode ok si perché il cavetto del psu della scheda madre da 24 pin con i colori così non l'ho mai visto ah non ci ho fatto caso in alimentatori decenti insomma i 24 pin non l'ho guardato in genere quando si hanno i colori col baleno sono quei tipo cinesissimi schifosi guardalo qua ah ok tutto giallogno rosso si può essere faccio un po' schifo abbiamo la ram ma magari sono le luci che fanno sta roba qua sono gialli boh oh vabbè sembrano colorate proprio mi sembra che ho già letto è una nvidia gtx 1080pi eh si pi si si volante credici grande due volte te la b80pi non vogliamo vedere il libro che devo ancora finire di leggere no l'ho già letto poi 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 nient'altro ha comunque letto più libri di me quelli sono bigliettini sicuramente robe che ho trovato in un diario di scuola zoo avete presente e sono tipo dei bigliettini ovvio sono cose che io non capisco tipo la chimica organica ossidi di acido è roba dolceo si si lasciate stare a queste cose qua golose c'è un Nutella Nutella Mikado eh si qua abbiamo tutta la mia collezione di macchinine tutte mezzerotte che però sono da quello piccolo diciamo boh mi piace macchinine di legotecniche abbastanza carine e qua dentro siamo molto adoro shhh FBI no 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 di nuovo tutta no eh grazie grazie hai già visto il film grazie io sto per esplodere qua c'è un drone qua c'è un drone qua c'è una collezione dei miei orologi che mi piace occhio qua si va sono tuoi? si va a Napoli si fa la bancarella qua sei sicuro che sia tuoi? è preciso orologi su orologi orologi su orologi ma non ha chi stress io oio cioè a me me ne bastano uno o due basta mi viene davano 300 e sono orologi schifosi cioè qua ci abbiamo il watch il watch questo qua vabbè un po' più meno scarso questo qua è figo poi c'è uno della ferraia carino vabbè questo qua non so cosa ci faccia qua se lo metto uno scompartimento di mia sorella ecco così impari a zoom questa qua è una pietra che ho trovato in Toscana nel fiume in un fiumiciatolo e tipo non so se è chiaramente una pietra toscana senti le bestemmie che sta tirando non so te Rick ma questa è una cosa che era anche mia è un'indole umana penso di trovi un sasso bello e dici lo devo prendere ah ok sì perché io facevo così ok vabbè lui è affascinato è la classica pietra toscana cioè tu la vedi cazzo questa è proprio toscana questa pietra ora lo capisco perché neanche io saprei spiegartelo ma anch'io se apro un qualche cassetto trovo dei sassi e non so neanche da dire da dove vengono però sono dei sassi che ho preso ok eh però lui lo sa che è della Toscana la sua pietra cioè tu invece non sarai meno dove li hai presi eh perché che appassionato sei è uguale ma succede l'asilo eh vabbè mi stia rispettando del bambino praticamente no 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 assolutamente no forse ha solo una malattia andrò a filmi e vedere ragazzi tranquilli però è strano mi sembrava un fossile molto probabilmente non lo è infatti ci avete ragione zona zaino con libri è una normalissima pietra toscana anche la Tosc questi libri qua andrebbero messi nel cassetto qua in basso solo che non ciò vuoi di mettere perché mi spacco la schiera e poi avendo la dad non ciò vuoi di capire tutto chiudiamo il cassetto abbiamo un pad appunto per il pc che si accende e si accendo questo coso qua questa è una mia postazione non troppo professionale però una postazione buona per comunque giocare e non un pc che fa eh 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 avete capito però cioè mi fa ridere che in teoria lui ha introdotto un pc con la 1080ti dicendo che la scheda video non fa 10 fps eh sì è come se non fosse una scheda video ancora oggi potente comunque alla fine del video non era male no no mi è piaciuto mi è piaciuto a parte gli FBI open up io c'ho ancora in testa la pietra toscana non lo so perché mi piace non ho capito cioè gli piace perché c'è tipo quella quel segno qua questa qua è una pietra che ho trovato in Toscana perché questa fosse un fossile sì e niente è rimasta lì e invece niente va bene e prossimo video Mauri fammi vedere un attimo se il signor Pierre Fullart ci dà qualcosa ah altre cose spicy postazione 2024 ecco cosa è cambiato ha aggiunto la pietra calabrese e speriamo sulle stesse casse mamma mia guarda lì buffe dei fanatic 700 ventole incredibile ah ecco perché c'è stato un power up mica quanto è vuoto sto case eh vabbè oggi ragazzi video è da molto molto tempo oggi siamo tornati ok è cresciuto ma di che anno era quello di prima 2022 ah ok è passato un po' di tempo e oggi in due anni è cresciuto ok comunque ricordo che il mio canale è un canale un po' random è un po' di tempo che appunto non ci vediamo quindi per inaugurare di nuovo questa cosa qua io volevo fare di alarmi una nuova postazione in realtà non è nuova perché in realtà è una postazione fissa con un computer fisso in realtà c'ero già dal 2020 un po' per il compleanno di novembre un po' di varie cose sono uscito a renderla diciamo più qualitosa passatemi il termine ora due divorzi alle spalle bravo è passato tanto tempo va bene allora intanto come avete visto dall'intro iniziale mi è arrivato un secondo schermo un buon schermo sicuramente anche per il fatto che è 200 hertz comunque per giocare tanta roba molto molto bello anche per il fatto che non è un normale schermo da 16 noni ma da 21 noni invece il mio vecchio schermo che uso pinchia ho editato bene è migliorato troppo maurio non va bene sono curvi anche loro tutti in sovrappeso dov'è l'fbi ti ai donna è anche da video per i gaming normale mi sto per morire anche non è male a termine di 60 ti ai buonissimo per giocare chiaramente non è ti ai quella senza giocare con tutto al massimo però beh non è anche la descrizione ti ho messo ti ai a quello potente però comunque è un pc buono cos'è che sta facendo cosa sta facendo la luce si è un pc comunque buono per giocare non è cosa va ma novella a casa sua non c'ha non c'ha lo lascio ad era ad eni devi girare il criceto per caricare la luce ok adesso mi immagino che durante la live riaccendere le luci oh scusate ragazzi se è spento la luce del gatto aspetta che la carico e inizio a muover la manovella uno dei tanti il primo che ha trovato il primo prima generazione gioco da dio per i miei standard poi vabbè 32 giga di ram per giocare alla fine bastano anche 16 giga però già si infatti hai già più diciamo non hai dei limiti non hai limiti alla fine è infinito pc infinito senza limiti la scheda di rete non costa niente 20 euro è già scusa non c'era nella scheda madre ma io penso l'intenda qualcosa wifi cioè penso io dopo è scontato che la scheda madre ce l'abbia se dopo guardi dopo torniamo indietro ok una bomba diciamo anche con una scheda di rete da 20 euro ce la fai benissimo ma perché scusami la scheda madre ha la scheda di rete torniamo indietro il quale deve aver visto una scheda in più quando mostra qua dopo Natale vabbè mettite la geforce retx no io da molto quella sopra ok dici che è quella la scheda di rete a sto punto però non mi spiego com'è possibile che la scheda madre non abbia una scheda di rete e infatti dico perché dovrebbe avere una scheda di rete non lo so ma come a med ne ha scheda madre no no a med allora so che è possibile che ci siano però una normale di quelle lì che compri prometteci componenti da gaming diciamo una qualsiasi di quelle che trovi una che sia commercialmente provabile dentro c'ha la porta LAN vabbè mi ricordo dovevamo arrivati è una scheda minetix forse per quello buono in pratica ho fuso alimentatore a quanto pare è genius ah e tra l'altro ah il famoso è il famoso alimentatore maori che commentavi prima ecco qui il mio alimentatore eccolo lì tra l'altro 300 watt non lo so saltato in aria era lui era una merda immaginavo abbiamo dovuto cambiare lì pure l'alimentatore adesso mi ho messo una 750 tra l'altro figo perché posso portare fino a due cpx cpu e anche il gpu come due cpu no perché ha due socket no quella per inventare la stessa cpu non farlo e appunto qualsiasi cosa tu abbia in mente non farlo l'alimentatore adesso mi ho messo una 750 tra l'altro figo perché posso portare fino a due cpx cpu e anche il gpu e poi due cpu pensi mettere due processioni tante schede madri hanno il doppio slot per tenere la tensione della cpu e quindi tu hai l'alimentatore che ha due slot due socket cpu opzionale secondo chiaramente a meno che te lo faccio per il clock pazzo sono le ventole abbiamo messo due no cinque nuove ventole così tutte attaccate a un diciamo questo non so come chiamarlo il secondo alimentatore che prende un cavo grosso dell'alimentatore e lo diciamo una ciabatta molto ecco una ciabatta per le ventole è tipo l'hub per le ventole l'hub delle ventole va bene è vero che hub usb non lo sanno dire mi ero dimenticato ma io voglio capire una cosa allora il suo il suo case ha due ventole lui ne ha aggiunte altre cinque è pieno e a uno si fa due domande dice ok ma perché tra l'altro è un vabbè il case gigantesco con la mini atx dentro che fa ridere chissà che caldo farà lì dentro può scambiare anche la velocità tutto quanto luci colori adesso lo spenta chissà quanta volte lo farai vi lascio tutti i link in descrizione la serie rimane quella nuova videocamera 60 fps probabilmente farò dei video se avrò tempo va bene ragazzi questo è un video infatti ci vediamo in un prossimo episodio o qualcosa del genere non lo so se avrò tempo già di dare questo video qua ci metterò tanto vi lascio sotto un video in descrizione che dovete assolutamente provarlo funziona l'ho fatto l'idea è mia farò un video a parte cui spiegherò tutto però questa è un'altra storia una cosa a parte ci vediamo in un prossimo video questo è il suo ultimo video rip vabbè fb 2024 magari ci mette tanto si ma dipende c'è quando è inizio anno c'è gennaio tre giorni fa no ok ah ok allora allora vedi Stefano Carboidrati effettivamente Stefano Carboidrati sarebbe da dare un'occhiata come controllo subito dici ah si dai così giusto a vedere come sta cosa fa youtube.com io ho notato è ormai passato un bel po' di tempo ma su tanti canali è apparso Stefano Carboidrati anche perfino dal signore Gianmarco Tocco pure lui ha reagito abbastanza mamma mia ormai è diventato globale Stefano Carboidrati ormai penso che lo conoscano tutti sì sì pochi sanno in realtà chi è che l'ha scoperto l'ha scoperto veramente chi è stato il talent scout qui chi è stato eh è un classico quello arriva solo quello grosso che lo vedi dice ah bravo Gianmarco Tocco bravo bellissimo Stefano Carboidrati ma non sanno chi è veramente fieri che vero talent scout